Allora, questa prima parte analizzeremo la società per azioni, la società per azioni che è la società delle grandi aziende pensata da parte del nostro ordinamento giuridico per attività economiche di una certa importanza e di una certa struttura. Partiamo adesso con la presentazione, vediamo un po', eccolo qua, e andiamo avanti e partiamo. Allora, primo punto. Siamo nell'ambito delle società di capitali e quindi noi già sappiamo qual è la differenza tra società di capitali e società di persone. Ricordiamoci per l'ennesima volta quali erano le tre società di persone previste per le attività economiche medio-piccole e sono la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. La caratteristica delle società di persone, come dice la parola stessa, è che chi ne fa parte sono sempre delle persone fisiche che rispondono illimitatamente e solidarmente per le obbligazioni sociali. Mentre, nell'ambito delle società di capitali, di cui sono previsti tre tipi dal nostro ordinamento, che sono la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata, abbiamo un'impostazione strutturalmente opposta, perché, come dice la parola stessa, per esempio, nell'ambito delle SRL, la responsabilità è limitata, a differenza di quelle di persone. È limitata a che cosa? All'investimento, al versamento, alla quota di capitale che è stata versata per entrare a far parte di queste società. Ora, le società sono tre. La più piccola, quella prevista per le attività, diciamo, di medio cabotaggio, è la società a responsabilità limitata, che vedremo successivamente. Poi abbiamo la società in accomandita per azioni, che è la variante, diciamo, capitalista di quella personalista, che è la società in accomandita semplice che avete già fatto, dove è la coesistenza, tra due categorie di soci, gli accomandanti, gli accomandatari, con quello che funziona alla stessa maniera. L'unica differenza è data dal fatto che lì, nella società in accomandita semplice, la quota è costituita da una somma di denaro, da un versamento, o quantomeno da una quota che abbia una società suscettibile di una valutazione economica. Mentre nel caso della S, della Sapa, della società è un'accomandita per azioni, le quote sono rappresentate non da generici versamenti, ma da titoli azionali. E poi abbiamo l'oggetto di questo PowerPoint, che è la società per azioni, che è la società per le grandi attività, per le grandi imprese. Come vedete in questo schema, una anomalia apparente. Tutte queste, tanto la SRL che la SPA, possono essere unipersonali e pluripersonali. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che la logica, stiamo parlando di una società, quindi quella di una pluralità di soci, mentre ci può essere anche questa sorta di anomalia, cioè di una società in cui ci sia un unico socio. Allora la domanda che ci dobbiamo porre è la seguente. Che senso ha? Che senso ha tutto questo? Ha senso nel momento in cui, ha senso nel momento in cui, ha senso nel momento in cui si vuole avere il vantaggio di avere una grande società dove c'è una limitazione della propria responsabilità. Quindi ci può essere il caso di un'unica persona che possegga la pluralità delle azioni. Qua sto facendo, quindi qua si blocca, quindi qua dovrebbe andare avanti, siamo registrati. E quindi questo è il punto. Andiamo avanti. qua questa è una scheda che ho preparato qualche annetto fa con i dati dell'Unione Camere, quindi delle Camere di Commercio d'Italia, dove ci sono i numeri delle società di capitali. Come vedete la SAPA è un fenomeno del tutto marginale, ne esistono appena 50. Mentre dell'SPA e dell'SRL, la fa da padrone con più di un milione di esemplari, per così dire, e l'SPA ne abbiamo tantissime, abbiamo poco più di 47.000. Per cui sotto vedete i dati di quelli unipersonali che sono chiaramente degli esempi limitati e marginali. Da questo dato possiamo fare una riflessione e capire come il nostro sistema economico italiano sia un sistema tendenzialmente povero dal punto di vista dei capitali e capitalistico, perché appena poco meno di 50.000 società per azioni sono veramente pochine. E quindi questa è la dimostrazione di quello che magari sentite dire tante volte, che l'Italia è un paese che si caratterizza per la media e soprattutto piccola, se non piccolissima, impresa, tipo imprese familiari, artigiane e via e via discorrendo. Ma comunque andiamo avanti. Società per azioni. Vediamo quali sono i loro corrispettivi a livello, a livello diciamo degli altri paesi e vediamo se possiamo fare una riflessione sui termini. In Francia si chiamano Società Anonime, Inghilterra Private Limited Company e in Stati Uniti assume il nome di corporation. Perché vi ho messo questa slide? Per farvi riflettere sul fatto di come si sottolinea il fatto in Francia della anonimità, cioè quindi del fatto che ci sia il capitale che prevale, come è tipico anche nelle nostre SPA, nei confronti della figura della persona. Quindi il capitale si impone nei confronti della persona. Nell'Inghilterra si sottolinea il carattere privatistico di questo tipo di società e nei Stati Uniti il termine corporation, cioè dove praticamente l'unione della corporazione, l'insieme, prevale sulle singole unità che ne fanno parte. Vediamo le caratteristiche fondamentali. La società per azioni, come abbiamo detto, può essere di due tipi. Pluripersonale, che è la regola, che dovrebbe essere sempre seguita, oppure unipersonale, unipersonalità, a senso nel momento in cui c'è una persona che dispone di grandi capitali, di grandi somme di capitali, le vuole investire sul mercato dando vita ad un assetto societario dove però la sua responsabilità non sia illimitata. Quindi preferisce, anziché dare vita ad una società, per esempio una comandita semplice, in nome collettivo, con un grande capitale versato, preferisce dare vita ad una società per azioni dove sia il titolare di tutte le quote azionari per limitare la sua responsabilità. I soci possono essere tanto delle persone fisiche quanto delle persone giuridiche. Quindi ricordiamoci chi sono le persone fisiche. Le persone fisiche siamo noi, sono gli individui, dalla nascita fino alla morte, e le persone giuridiche sono gruppi di persone che svolgono insieme un'attività economica o sociale ritenuta importante dall'ordinamento giuridico, tale per cui si viene dotata di personalità giuridica. Le persone giuridiche sono appunto le società di capitali, sono gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici economici e via discorrendo. Il capitale sociale a partire dal 2004 non può essere inferiore alla somma che è la quota limite per costituire l'SPA di 120.000 euro. Dal giugno del 2004 è stata abbassata questa cifra a 50.000 euro. Perché questo? Perché c'era una sperequazione rispetto ai capitali minimi delle società similari a livello europeo e questo poteva sicuramente penalizzare gli imprenditori italiani nel dare vita a società di questo tipo. Infatti come vedete in questo slide il legislatore con questo intervento ha voluto attenuare il fenomeno per cui in fase di avviamento le imprese proprio per l'ammontare minimo di capitale richiesto preferiscono la SRL e alla SPA. Inoltre come vi ho già detto tutti i paesi europei principali prevedono un capitale minimo di gran lunga inferiore e quindi non si voleva diciamo essere penalizzati da questo punto da questo punto di vista. Allora vediamo un pochino. Diverse tipologie di SPA. Perché diverse tipologie di SPA? Perché le SPA possono essere organizzate pur rispettando come dire la struttura di fondo che è uguale per tutte in diversi assetti. Quindi come già sappiamo nascono con un obiettivo fondamentale che è quello di concedere il beneficio della responsabilità limitata all'impresa di grande dimensione. Però nel corso del tempo hanno perso questa caratteristica. Perché? Perché l'aspirazione e la responsabilità limitata ha tirato anche medie o piccole imprese. Quindi oggi il numero maggiore di SPA consiste proprio in imprese di questo tipo. Quindi tutte le grandi imprese sono delle SPA. Ma non tutte le SPA sono delle grandi imprese. Quindi sottolineiamo questo aspetto. L'SPA nasce per essere una grande impresa. ok? Però con l'abbassamento della quota costitutiva si è voluta concedere questa possibilità anche a chi grandi capitali da investire non ce li ha. E vuole però beneficiare del privilegio del beneficio, diciamo così, di avere una responsabilità limitata. Per cui non tutte le SPA è detto che siano, non è detto che siano appunto delle grandi imprese. Ora guardate questa slide. Tipologia di SPA. E capite che cosa si intendeva nella slide precedente. Le SPA possono essere chiuse o aperte. Qual è la differenza tra la chiusura e l'apertura? La chiusura vuol dire che quelli che sono i titolari delle quote azionari, quindi i proprietari, i soci azionisti dell'SPA, non intendono dare la possibilità ad altri, a terzi, di entrare successivamente nel pacchetto azionario della propria società. Quindi vogliono essere chiusi e non aperti ad apporti, come dire, di terzi che possono venire nel corso del tempo. Mentre la seconda categoria è quella delle SPA aperte, che sono aperte sempre alla possibilità che nuovi soci, nuovi azionisti possano entrare a far parte della società. Chiaramente questa apertura viene effettuata nei confronti del mercato, del capitale di rischio, cioè, vale a dire, della borsa. Quindi abbiamo società con azioni quotate in mercati regolamentati, quindi sono nel destino della borsa, oppure società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, che non necessariamente devono essere in borsa queste azioni. Quindi l'SPA chiusa è un'SPA, come dire, di famiglia, dove c'è un gruppo familiare ben preciso e questa esigenza del terzo non la si vuole percorrere. Mentre quelle aperte sicuramente sono le SPA di grandi dimensioni che hanno bisogno della porta aperta per trovare nuovi soci, nuovi capitali che finanziano delle nuove imprese, dove l'oggetto di ciò che viene sviluppato si ampli e si estenda progressivamente, progressivamente sempre di più. È chiara questa differenza tra chiusura e apertura. Questo dipende da una libera scelta di gestione economica che è stata effettuata dai soci nel momento della costituzione della società. Vediamo le società che hanno le azioni quotate. Questo avviene nella borsa, che già sappiamo di che cosa si tratta. Abbiamo la Consolvo, che è un istituto di diritto pubblico che vigila sul regolare svolgimento di tutto ciò che accade all'interno della borsa e quindi controlla i bilanci, controlla, ammette la società ad entrare in borsa o meno che discorrendo. Ci sono dei vantaggi dalla quotazione perché questo consente di ampliare il valore reale di riferimento finanziario del proprio pacchetto azionario e quindi consente di essere, come dire, nella vetrina principale. Poi abbiamo la questione che mi ricordo che avevamo già studiato al suo tempo, cioè vale a dire del capitale, che il capitale si suddivide in capitale di comando e flottante. Il capitale di comando fa riferimento al pacchetto azionario che, come dire, che costituisce la maggioranza che guida e decide le sorti dell'SPA, mentre il capitale flottante è il capitale diffuso, che flotta, che gravita nel mare delle azioni, per così dire, suddiviso in una parcellizzazione molto accentuata, molto forte e che non influisce sul capitale di comando. Quindi, mi ricordo che questo non mi ricordo bene, ve l'avevo detto, non occorre il 51% del capitale azionario per gestire e comandare all'interno di un'SPA, ma è sufficiente un capitale del 15% del 20% proprio perché il restante è parcellizzato, non organizzato e non ha nessun interesse a mettere in dubbio le scelte fatte dai titolari che detengono il capitale di comando. Poi i patti parasociali, cosa sono i patti parasociali? I sindacati di voto sono, sono scollegati, sono degli accordi che vengono stipulati fra i possessori, quindi i proprietari dei principali pacchetti azionari che si impegnano a votare, a fare degli accordi su come bisogna gestire la società. Quindi ci sono per esempio 12 pacchetti azionari, 5 di questi hanno dei patti parasociali che si sono impegnati fra di loro a votare tutti nella stessa maniera e quindi questo gli consente di, come dire, prevalere nei confronti degli altri sette che sono disorganizzati perché hanno, come dire, questo patto di comunità di intenti che è stato siglato e che è stato messo nero su bianco con degli veri e propri accordi. vediamo le caratteristiche generali. Società di capitali dotata di autonomia patrimoniale perfetta e quindi sappiamo che cosa vuol dire, quindi c'è una scissione assoluta e distinta, netta, tra il capitale della società e quello dei singoli soci e quindi non è possibile in nessun caso che rispondano con il proprio patrimonio personale i soci per le obbligazioni sociali. Il capitale è costituito da azioni e già sappiamo che le azioni sono dei titoli di credito, quindi sono dei pezzi di carta che rappresentano una quota ideale della frazionaria del valore del capitale di quella società. La denominazione sociale, quindi il nome dell'SPA, deve contenere la sigla S.P.A. può essere composto da un solo socio o più soci e questo l'abbiamo già detto e per cui di conseguenza sarà unipersonale o pluripersonale. L'atto costitutivo potrà essere realizzato in due forme diverse, o con un atto unilaterale oppure con un contratto. Chiaramente l'atto unilaterale viene sviluppato da una persona con un atto pubblico successivamente autenticato il contratto e si va da un notaio. Poi, come al solito, ci vuole l'iscrizione nel pubblico registro delle imprese che ha effetto costitutivo, altrimenti la società si intende come nulla e non venuta d'esistenza, e il capitale minimo deve ammontare a 120.000 euro con la novità che abbiamo visto prima dell'abbassamento a 50.000 euro per favorire la costituzione di piccole società per azioni. Le azioni hanno queste caratteristiche, attribuiscono la qualità di socio, sono trasferibili, devono avere tutto lo stesso valore nominale e se ne possono emettere successivamente di nuove, in un momento successivo a quello della costituzione della società per azioni. Governo della S.P.A. Allora, gli organi abbiamo in un certo qual senso una strutturazione che è simile a quella della macchina dello Stato che studieranno il prossimo anno. C'è un organo che delibera, che è l'assemblea, che prende le decisioni, c'è un organo esecutivo che gestisce, che attua le delibere, che è quindi l'organo di natura amministrativo, e poi infine abbiamo un organo di controllo, che controlla la regolarità delle attività che sono svolte dall'organo deliberativo e dall'organo gestionale, quindi dall'assemblea e dall'organo amministrativo. Ci sono tre sistemi. Questi sistemi si chiamano tradizionali, dove i tre organi sono l'assemblea dei soci, che nomina il consiglio di amministrazione, che è l'organo amministrativo che gestisce l'impresa, e nomina lo stesso collegio sindacale, che è l'organo di controllo dell'attività dell'organo amministrativo. Quindi nel sistema tradizionale il motore centrale è costituito dall'assemblea dei soci, che nomina tanto il consiglio di amministrazione, con l'amministratore delogato, il presidente, eccetera, tanto il collegio sindacale. Quindi la maggioranza che gestisce la società, che è il comando della società, decide chi la dirige e chi la deve controllare. Nel sistema cosiddetto monistico noi abbiamo una strutturazione tra questi organi un po' diversa, perché l'assemblea nomina il consiglio di amministrazione, che nomina a sua volta un comitato di controllo fra i suoi stessi membri. Quindi qui si viene a creare una situazione di questo tipo. Il controllato, che è il consiglio di amministrazione, si sceglie il controllore, che è il comitato di controllo. Mentre nel sistema tradizionale questa facoltà, il consiglio di amministrazione non ce l'ha di scegliarsi chi lo deve controllare. Nel sistema dualistico invece abbiamo un altro meccanismo, dove l'assemblea nomina un consiglio di sorveglianza, che nomina un consiglio di gestione che gestisce la società. Quindi c'è una circolazione diversa. L'assemblea nomina il sorvegliante e il sorvegliante nomina chi deve gestire la società, cioè colui che deve controllare. Ora si tratta nell'ambito del sistema monistico individualistico di sistemi che fanno riferimento a come sono organizzate le SPA negli altri paesi europei, cioè vale a dire essenzialmente Francia, Germania e Inghilterra. Mentre il sistema tradizionale è quello nostro tradizionale di tipo italiano. Alla fine di queste slide riprenderemo e approfondiremo questo tema nuovamente. Passiamo all'inizio, alla costituzione della SPA. La costituzione può avvenire in due modi diversi, o in forma simultanea oppure per pubblica sottoscrizione. Nella costituzione simultanea i soci fondatori, quindi il gruppo di soci che vogliono dare vita a questa società, vanno da un notaio, sottoscrivono un contratto costitutivo di SPA e il notaio provvede al deposito di questo atto per l'iscrizione, per sé pubblico registro delle imprese. Quindi nella costituzione simultanea noi abbiamo un gruppo di soci, che saranno pochi, non potranno mai essere tanti, che esprimono una volontà precisa per la costituzione della SPA. Invece, e quindi noi lo dobbiamo immaginare come una forma che sarà prescelta nell'ambito delle società, come dire, chiuse di cui abbiamo parlato prima. Mentre la costituzione per pubblica sottoscrizione è pensata per le società che hanno una vocazione ad essere aperte verso il mercato. Perché? Come avviene questo meccanismo? Dei soci, che si chiamano in questo caso non fondatori ma promotori, elaborano un programma, questo programma che il piano economico della società viene reso pubblico e chiunque lo può sottoscrivere. Quindi si procede alla convocazione di un'assemblea dove si procede alla nomina degli organi societari. Quindi chiunque può entrare nel momento in cui viene a conoscenza di questa costituzione di una nuova società all'interno di una società. Quindi io ho un programma, io ho un'idea, lo rendo pubblico e posso avere la possibilità, se è un programma interessante, vincente, accattivante, di entrare a far parte di questo nuovo progetto societario. Differenza tra soci promotori e soci fondatori. I soci promotori sono quelli che promuovono la società per pubblica sottoscrizione, i fondatori sono quelli che fondano e danno vita alla nascita di un SPA, diciamo così, tradizionalmente chiusa. atto costitutivo e statuto. Anche qui troviamo dei concetti che già conosciamo perché abbiamo studiato nelle società di persone, appunto, insomma come concetto non è molto diverso. Quindi qual è la differenza tra l'atto costitutivo e lo statuto? L'atto costitutivo è il documento, è l'atto fondante, il generatore, diciamo, della nascita giuridica dell'SPA. Lo statuto è quel documento che più delle volte è un tutt'uno con l'atto costitutivo, dove vengono indicate le regole che devono disciplinare l'attività dell'SPA che si va a costituire. Ma vediamo un po' quali sono i requisiti, diciamo così, dell'atto costitutivo. Nell'atto costitutivo bisogna innanzitutto elencare le generalità dei soci, quindi nome, cognome, eccetera, la denominazione sociale, quindi il nome con cui questo SPA viene conosciuto e presentato sul mercato, il tipo di attività che viene svolta, la sede sociale, l'ammontare globale del capitale sociale sottoscritto e versato, ricordatevi di questa differenza importante tra sottoscritto e interamente versato o parzialmente versato di cui vi parla al suo tempo. Poi abbiamo l'indicazione del numero delle azioni che costituiscono il capitale sociale, il valore eventuale che viene attribuito ai crediti oppure ai beni che vengono conferiti in natura, quindi c'è sempre questa possibilità non di versare danaro ma di contante per acquistare azioni, ma di prendere in cambio delle azioni, dare i crediti che si hanno verso tersi oppure beni in natura e quindi in questo è del tutto simile a quello che accadeva per esempio nella società in nome collettivo. Poi bisogna indicare l'annurata della società, poi le norme relative al funzionamento della società e alla ripartizione degli utili, quindi il tipo di assetto che si sceglie, se tradizionale, dualista o monista. quindi abbiamo lo statuto e il documento, come già sappiamo, con il quale i soci pongono regole più specifiche per il funzionamento della società e quindi il regolamento interno potremmo definirlo anche così. Lo statuto lo si può modificare successivamente comunque con una maggioranza qualificata, quindi con una maggioranza assoluta dei soci e l'atto costitutivo potrebbe risultare nullo nelle seguenti ipotesi, mancata osservanza dell'atto pubblico oppure illicità dell'oggetto sociale oppure mancanza di uno degli elementi essenziali che abbiamo indicato precedentemente. I conferimenti debbono farsi in danaro, ma se l'atto costitutivo lo consente, come abbiamo visto prima, possono essere conferiti crediti verso terzi oppure beni. In questo caso il valore dei beni dovrà essere certificato e quindi non gonfiato o sminuito affinché il capitale sia reale. Ricordiamoci sempre che è importante che il capitale sia effettivo e non fittizio perché è l'unica fonte su cui si possono rivalere i terzi per le obbligazioni sociali. Così come i crediti si intenderanno conferiti salvo buon fine, quindi che si intende che devono essere onorati questi crediti, quindi se questo credito poi non viene onorato da chi è il soggetto passivo dello stesso non avrà efficacia questo conferimento da parte di chi l'ha effettuato. Poi non possono conferirsi prestazioni d'opera o di servizio, quindi il socio d'opera, che è una figura tipica della società di persone, in questo caso non può verificarsi. Gli apporti sono degli incrementi, non del capitale sociale, capitale sociale è una cosa distinta, che possono consistere in servizi o opere che i soci erogano a favore della società. Al socio che le effettua non verranno conferite azioni ma strumenti finanziari che attribuiscono dei diritti patrimoniali. Quindi facciamo un esempio, io sono un azionista, ho la qualifica anche di amministratore delegato, il mio lavoro di amministratore delegato viene remunerato, perché io do un apporto in tal senso di servizio, viene remunerato con dei derivati o con delle stock option, insomma con qualche cosa di diverso che non sia proprio in senso stretto una azione. Il capitale sociale versato è sottoscritto. Il capitale versato sarà quello effettivamente conferito dai soci, mentre il capitale sottoscritto è quello che i soci non versano immediatamente, ma che si impegnano a versare in un momento successivo quando gli amministratori ne faranno richiesto. Ora, secondo quello che prevede il Codice Civile attualmente, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, bisogna versare almeno il 25% del capitale, mentre i soci che conferiscono beni o crediti dovranno effettuare il versamento per intero. Stesse regole nel caso del socio unico. Per il momento ci fermiamo qui e quindi fermiamo a questo punto la prima parte della registruzione.